Allora Un incidente è stato causato probabilmente da un matanasso abbandonato là e poi si è propagato a queste pareti il legno che formano questo corridoio per sottopasso. Per passare dall'altra parte della stazione, quindi quando siamo arrivati non c'era niente, c'era soltanto l'incendio in atto che abbiamo chiaramente localizzato e circoscritto così.